diciamo che io sono abituato nella mia vita di quando accado di alzarmi non è che ho molta scelta e poi non è che è morto qualcuno abbiamo perso una partita siamo fuori dalla champions contro una grande squadra che ha meritato questa questa vittoria oggi e domani sarò di nuovo lì con tutte le mie forze con tutto il mio entusiasmo e positività per cercare di nuovo a fare meglio a crescere a lavorare prima di tutto non ho visto niente tra loro perché mi sono occupato di tante altre cose secondo tempo specialmente secondo non credo che sia il momento di parlare del singolo ai 11 partite ci sono 11 partite da giocare in campionato e abbiamo bisogno di tutti i giocatori ma ribadotelli per noi rimane un giocatore fondamentale e quindi quando si perde si perdono tutti e quando vinciamo vinciamo tutti e quindi non è assolutamente colpa di uno o l'altro di questo risultato